Una nuova sfida per Telecom Italia, questa offerta pubblica di Inwit, che significato ha questa scelta di quotarsi in borsa? La scelta di quotarsi in borsa in questo momento è una scelta che è stata fatta da molti operatori nel mondo. Le infrastrutture di torri di telecomunicazioni certamente vivono un momento particolarmente interessante. È il momento della crescita, è il momento del consolidamento. Nel mercato ci sono molte antenne, queste antenne, devo essere sincero, continueranno a essere necessarie nel lungo periodo, perché la telefonia mobile richiede sempre un importante numero di antenne, ma richiede anche molta innovazione. L'innovazione è rappresentata dal fatto che queste antenne devono diventare più pervasive e più piccole. Avere delle società specializzate nel mondo delle torri e delle infrastrutture di telecomunicazione è sicuramente un aspetto molto importante. Che ripercussioni ci possono essere sui bilanci di Telecom, ma anche in considerazione dei vostri progetti futuri sulla banda larga? La possibilità di valorizzare un patrimonio di oltre 11.000 torri permetterà a Telecom Italia di liberare capitale investito. Stiamo parlando di una valutazione totale che sta a cavallo dei 2 miliardi di euro, di cui noi iniziamo a mettere in quotazione il 40% in questo momento. Sicuramente questo rappresenta un importante polmone finanziario ulteriore, sia per mantenere la nostra dimensione finanziaria pienamente sotto controllo, sia per avere ulteriori possibilità nell'ottica dello sviluppo delle reti a banda ultra larga, sia fissa che mobili. Quali strategie di comunicazione ci saranno? Stiamo facendo un IPO che è rivolta anche al mercato retail. Come tutte le IPO che si fanno al mercato retail bisogna raggiungere il mercato retail. Radio e stampa sono sicuramente i due veicoli principali con cui ci muoveremo. L'importante è che il mercato retail sia informato sia dell'esistenza ma poi sia perfettamente informato. Si tratta comunque di un investimento azionario, quindi chiunque volesse investire è bene che lo faccia in modo consapevole. Grazie a tutti.